Leggere il versetto di introduzione al sermone di questa mattina che si trova in Giovanni 11, versetto 25. Giovanni 11, versetto 25. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Amen. Adesso do la parola al pastore Petru. Care sorelle, carissimi fratelli, buon sabato anche da parte mia. Insieme a voi credo che tutti quanti abbiamo dentro di noi il desiderio di ringraziare il Signore, di portare la nostra gratitudine ai Suoi piedi perché in questo momento importante della nostra vita ci troviamo davanti al Signore. Questo momento non si ripeterà il prossimo sabato, neanche il prossimo, neanche quell'altro, perché ogni momento è importante e non è ripetibile nella nostra vita. Perciò ritengo veramente importante questi attimi che noi li viviamo davanti al Signore e il modo come noi ci presentiamo, con quale atteggiamento noi ci presentiamo davanti al Signore. Mi sembrava opportuno soffermarci un pochino su questo testo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25, dove si afferma, Gesù le disse E mi piacerebbe che tornassimo alle nostre case con questa affermazione forte da parte di Gesù Io sono la risurrezione e la vita Nella nostra esperienza di tutti i giorni questo anche se che ci disturba, questo anche se che inciampa, ci aiuta, ci provoca, ci sollecita, ci fa inciampare Perché questo anche se non sempre lo vogliamo E anche questo amore per eccellenza, io ti amo anche se E' difficile declinarlo, tradurlo nella vita di tutti i giorni Anche se muore, anche se si amala e muore, chi crede in me avrà la vita E' interessante come questa grande, forte affermazione da parte di Gesù Si trova all'interno di un capitolo molto conosciuto da noi Ed è proprio alcune idee, alcuni pensieri su cui mi vorrei soffermare questa mattina Sono concentrati in questo titolo che vedete sullo schermo Quando Gesù sembra in ritardo Non vorrei parlare di tutte le dinamiche di questo capitolo Molto bello perché ha un finale straordinario Dove Lazzaro, nonostante sia morto da quattro giorni Appena sente, strano, appena sente la voce di Gesù Ritorna alla vita Ezechiele 37 Appena quella valle piena di osse secche Sente la parola di Dio Sente il rumore dello spirito di Dio Che inizia ad entrare in loro Iniziano piano piano a ritornare in vita A risuscitare Questa è la parola veramente potente Da parte del nostro creatore Che crea dal nulla Che dal nulla fa ritornare alla vita Ed è qui che il mondo della scienza Che ha accettato la teoria dell'evoluzione Non riesce ancora a trovare delle risposte Non riesce ancora a dare delle risposte concrete Da dove viene questa vita Da dove viene questa intelligenza Che ha creato la vita Basta avvicinarsi al sepolcro di Gesù Basta avvicinarsi a Gerusalemme E vedere fuori da Gerusalemme Che il sepolcro è vuoto Che lì questa tomba è vuota Non c'è più Così come la tomba di Lazzaro È rimasta vuota Finché non poi è dovuto morire Per la seconda volta Poverino Ci ha visto la morte due volte Però sicuramente avrà la gioia Della risurrezione Piena di vita e di gloria Però è toccato a lui Quella tomba di Lazzaro È rimasta vuota Per tutta la sua vita Mentre la tomba di Cristo Che si trova nei pressi di Gerusalemme Poi è da vedere Alcuni indicano una tomba Che l'ho vista Sono pure entrato dentro E alcuni indicano un altro posto Ma a prescindere da questo Quella tomba è vuota A garantire Che la nostra vita di fede Il nostro percorso esistenziale Della nostra vita Non finisce di fronte alla tomba Non finisce in un cimitero La nostra vita ha un senso Proprio perché dietro c'è il creatore E qui in questo contesto Rilego Gesù Fa questa potente affermazione Io sono la risurrezione e la vita Chi crede in me Anche se muore Vivrà Ma prima di questa conclusione felice E tutti vissero contenti e felici Prima c'è un percorso C'è un percorso che Ci vede coinvolti tutti noi Ed è il percorso che Gesù Lo sta facendo Per avvicinarsi a Betania Dall'altra parte del Giordano Dalle regioni della Perea Ora quando Gesù si trova Lontano da Betania Ho visto anche sulla mappa stamattina La regione al di là del Giordano In Perea Dista circa 40 km Da dove si trovava Gesù Fino in Betania E con i tempi che erano allora Con il servizio del pullman Molto veloce con la ferrovia Ci impiegavi una giornata buona Per fare a piedi 40 km E Gesù si trova lì con i discepoli Proprio perché Vedremo O meglio Se avremo tempo leggeremo Che quando Gesù dice Che torneremo in Betania Quindi ci avviciniamo a Gerusalemme Betania da Gerusalemme Sono circa 3 km I discepoli si erano allarmati Gesù Maestro ma com'è Torniamo indietro Quando quei giudei Hanno provato a lapidarti E Una persona Viene mandata Da casa di Lazzaro Dalle sorelle Maria e Marta Inviano Un messaggio Non su Whatsapp Ma una persona Che corre Corre E ci mette un giorno Per raggiungere il maestro Per dire semplicemente Il tuo amico è malato Vorrei rileggere questo Anzi rilego dal versetto 1 C'era un amalato Un certo Lazzaro di Betania Del villaggio di Maria e di Marta Sua sorella Maria era quella che unse il Signore Di olio profumato E li asciugò i piedi Con i suoi capelli Lazzaro Suo fratello Era malato Le sorelle dunque Mandarono a dire a Gesù Signore Ecco Colui che tu ami È malato E vi chiedo Vi prego di fare attenzione A questa affermazione Qui Stando a quello che È riportato Nella parola di Dio Questo inviato Non chiede al maestro A Gesù Di intervenire Di far di tutto Di risanare Lazzaro Di guarire Lazzaro Oppure di dire Come troviamo da un'altra parte Nei Vangeli Di maestro Almeno una parola E il tuo amico Che lo ami tanto Guarirà di sicuro Le sorelle dicono Signore Ecco Colui che tu ami È ammalato Non so quanti di noi Nelle nostre preghiere Buone Perché È la Bibbia Che ci Ci ispira Ci 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 spinge A dire Chiedete E vi sarà dato Insistete Ma In questa relazione Veramente Di affetto Di amore Gli viene Indicato a Gesù Il tuo amico La persona Che tu ami È ammalata Qui È interessante Che non Si chiede a Gesù Di fare Quello che vogliono Loro Non viene a Gesù Detto di Fai questo Perché io ti dico Gesù non viene Quasi Manipolato E per dire Devi fare Signore Questo Altrimenti Non c'è Lì Siamo tutti Disperati E questa Richiesta Si basa Su una Relazione Di vera Amicizia Di vera Conoscenza Con Cristo Mi è piaciuto Molto Il commento Che fa la sorella White In riferimento A questo Rapporto Di amicizia Nel capitolo 58 Le scrive Gesù si recava Spesso In casa Di Lazzaro Non aveva Una casa Sua E dipendeva Dall'ospitalità Dei suoi amici E dei suoi discepoli Spesso Quando era Stanco Si sentiva Bisogno Di manifestazioni Di simpatia Si rifugiava Volentieri In quella Casa Tranquilla Al riparo Dai sospetti E dalla Gelosia Dei farisei Infuriati Lì In quella Casa Di Lazzaro E delle sue Sorelle Gesù Trovava Un'accoglienza Cordiale Un'amicizia Pura E sincera Poteva Parlare Con semplicità E libertà Perché le sue Parole Erano Comprese E ricordate Il Salvatore Apprezzava Molto Un ambiente Tranquillo E degli uditori Attenti E aveva bisogno Di tenerezza E cortesia E affetto Gesù Trovava sempre Rifugio Trovava sempre Accoglienza E dall'altra parte C'era questa Disponibilità Di sentire Gesù Di accoglierlo E nel momento Della sofferenza Nel momento Della malattia Questi amici Intimi Di Gesù Non si Permettono Di dire Signore Fai questo Fai questo Perché qui È fine mondo Il nostro Fratello Sta per morire Quanti di noi Hanno questa fiducia Veramente Forte Totale Sincera In Dio Che nel momento Del bisogno Semplicemente Dire Signore Questi sono I miei problemi Signore Tu conosci Tutta questa situazione Da qui Sembra che Non riusciamo Più ad uscire Te la presento Davanti a te E poi Col capocchino Rimani lì In silenzio Per dieci minuti Per un'ora Per una notte Intera Perché hai fiducia Che il tuo Padre Eterno Non Fa finta Di non sentire E Questa Questo atteggiamento Mi ispira Proprio Questa fiducia Totale In Cristo In cui Credo Ed è il mio Salvatore E poi Un altro Fatto Veramente Che mi ha Un po' Spiazzato In questo racconto E la risposta Di Gesù Rilego il versetto 3 Le sorelle dunque Mandarono a dire a Gesù Signore Ecco Colui che tu ami È malato Versetto 4 Gesù Udito ciò Disse Questa malattia Non è per la morte Ma è per la gloria Di Dio Affinché Per mezzo di essa Il figlio di Dio Sia glorificato La persona Cerca di memorizzare Questa risposta Da parte di Gesù Magari Gli avrà chiesto Maestro Vuoi partire Adesso Con me Oppure Vado avanti E immagino Che Gesù Gli dice Di tornare A riportare Alle sorelle E a Lazzaro Questa risposta E Gesù Rimane ancora Indaffarato Nelle cose Che doveva fare In Perea Quindi lontano A circa 40 chilometri Immaginate Il giorno Non so se Questa persona Questo inviato Questo messaggero Da casa di Lazzaro Sia partito subito La sera O la mattina dopo Fa altre 8-9 ore Perché corre veloce Per rassicurare La casa Che Gesù Ha detto Queste parole Questa malattia Non è per La morte Oltre al versetto Intero Ma è per la gloria Di Dio Eccetera Eccetera Sicuramente Il messaggero Avrà ricordato Queste parole Il maestro State tranquilli Il maestro Ha detto Che questa malattia Non è per la morte E se Contiamo Quello che succede Il fatto che Gesù Si trattiene Ancora Due giorni E poi Va a casa A trovare Finalmente Lazzaro Avrà fatto Circa Un giorno Forse Con Gli apostoli Con tutto il gruppo Probabilmente Si sarà un po' Fermato Quindi Probabilmente Avranno fatto Più di un giorno E quindi Due giorni Che si trattiene Ancora Poi Lui Finché arriva 40 chilometri A piedi Ci metterà Un giorno E mezzo Probabilmente All'indomani Arriva finalmente A casa di Lazzaro Quindi Potevano passare Più o meno Quattro giorni Nel frattempo Il messaggero Torna subito A casa A portare La bella notizia Che Gesù Ha detto Che questa malattia Non è per la morte Queste parole Sicuramente Li saranno imprese Ma è per la gloria Di Dio Arriva a casa Probabilmente Trova Un silenzio Tombale Gli ultimi Respiri Di Lazzaro Tutti Attorno a loro Qualcuno Che piange Non davanti a lui Per non dimostrare La debolezza Ma per fargli Coraggio Perché il maestro Ha detto Il nostro messia Ha detto Che questa malattia Non è per la morte E probabilmente Da lì A poche ore Lazzaro Finisce Di respirare O forse Ancora peggio Perché la bibbia Non ne parla Appena arriva Il messaggero A casa Per dare la bella notizia Lazzaro è già steso Privo di vita Non lo dice la bibbia Immaginate La delusione Di quella famiglia Come colui Che fino a pochi Giorni fa Aveva guarito Aveva ridato la vita Ad un cieco Dalla nascita Aveva dato Tanti Aveva fatto Tanti Tanti miracoli Com'è che ci sta Prendendo in giro Questo nostro messia Questa malattia Non è per la morte E il nostro Lazzaro Il nostro fratello Ormai è morto Si accertano Si sono accertati Della sua morte Li fanno Un funerale Decente Con Sofferenza Con dolore E poi Lo accompagnano Alla sua tomba Questa malattia Non è per la morte Immaginate Quei due giorni Di ritardo Da parte di Gesù Che cosa Ha portato In questa famiglia Quante delusioni Ecco Il titolo Quando Gesù Sembra in ritardo Che cosa può accadere Nella mia vita Che cosa può accadere Nella tua vita Quando Presenti un problema E lui Sembra che sia in ritardo Poi possiamo Giustificare Questo ritardo Da parte di Dio Primo Dio sente La tua risposta Ma tarda A rispondere Dio sente La tua risposta Ma Sceglie Di rispondere In un altro modo Dio sente La tua risposta Ma Ancora Non si sente Da nessuna parte Un segno Della sua presenza Gesù Un po' più tardi Dirà Chi crede in me Anche se muore Vivrà Credi tu Questa cosa Quando Gesù Sembra In ritardo E Questo ritardo Mi ha portato In un'altra parte Della Bibbia Nella lettera Che Pietro Scrive Alle chiese Nella sua Seconda lettera Dove Questo ritardo E' ancora più Sentito Oggi Perché Quei due giorni Di ritardo Dove troviamo Che Gesù Nel versetto 5 e 6 Di Luke Di Giovanni 11 Dice Gesù Appena Ha detto Quella cosa Al messaggero Si trattenne Ancora Due giorni Da quelle parti E questo Trattenersi Ancora due giorni Da parte di Gesù E' sembrato Per loro Una eternità Questo Ritardo Da parte di Gesù Di due giorni Che poi Per noi E' diventato Un mese Un secolo Più di un milenio Questo ritardo Di due giorni Oggi E' diventato Due mila anni E ancora Gesù Non lo vediamo Lui ha promesso Ma ancora Non lo vediamo L'unica cosa Che mi fa Sperare In Lui E guardo Con certezza Con convinzione E questa affermazione Da parte di Cristo Io sono La risurrezione E la vita Chi crede in me Anche se muore Vivrà E questa certezza Non è Basata Soltanto su delle parole Semplici Perché Gesù E' bello Gesù è simpatico Lo ha detto E io credo Questa affermazione Si fonda Si basa Su una tomba Che oggi E' vuota Su delle prove Non soltanto Bibliche Dove si racconta Per fede La storia di Dio E l'intervento Nella nostra vita Ma è fondato Su un fatto reale Vero Di cui anche Le fonti Extra bibliche Ne hanno parlato E ne hanno parlato In modo molto evidente E si trovano oggi Dei documenti Delle lettere Da parte Dei governatori Che hanno vissuto In quel tempo Che hanno scritto Di questo Quindi è un dato Certo Storico Questa affermazione Si basa Perché Cristo Ha vinto La morte E quando Non ho delle risposte A questo Apparente ritardo Da parte di Dio Devo avere anche Come credente L'umiltà Di mettere la mano Alla bocca E di stare In silenzio Davanti al Signore Così come probabilmente Sono rimaste In silenzio Marta Maria E tutti gli altri Amici di Lazzaro In questo apparente Ritardo Da parte Di Gesù L'Apostolo Pietro Scrive Nella seconda lettera Dal capitolo 3 Delle cose Che Probabilmente Ci portano Di più Ai giorni nostri Di oggi Seconda Pietro Capitolo 3 Dal versetto 3 In avanti Lui dice Sappiate questo Carissimi Prima di tutto Che Negli ultimi giorni Verranno Schernitori Befardi Negli ultimi giorni Verranno Schernitori Befardi I quali Si comporteranno Secondo I propri desideri Pecaminosi E diranno Dov'è la promessa Della sua venuta? Perché dal giorno In cui I padri Si sono addormentati Tutte le cose Continuano Come dal principio Della creazione E lui aggiunge Ma costoro Dimenticano Volontariamente Che nel passato Per effetto Della parola Di Dio Esistettero Dei cieli E una terra Tratta dall'acqua E sussistente In mezzo all'acqua E che per mezzo Delle stesse cause Il mondo Di allora Sommerso Dall'acqua Perì Mentre I cieli E la terra Attuali Sono conservati Dalla medesima parola Riservati Al fuoco Per il giorno Del giudizio E della perdizione Degli empi Ma voi carissimi Non dimenticate Quest'unica cosa Quindi Che cosa Dobbiamo noi Veramente Ricordarci Che Per il Signore Un giorno E come mille anni E mille anni Sono come un giorno E qui ne potremo Parlare tanto Però Non voglio aprire Questa parentesi Versetto 9 Il Signore Non ritarda L'adempimento Della sua promessa Come pretendono alcuni Ma è paziente Verso di voi Non volendo Che qualcuno Perisca Ma che tutti Che tutti Giungano Al ravvedimento E quando Ho citato Questo testo Ad un amico Dice Allora Scusa Il Signore Lascerà Il nostro mondo All'infinito Perché Questa lunga pazienza Non volendo Che tutti Periscano Mai Il mondo Sarà tutto Perfetto E tutti quanti Più di 7 miliardi Accetteranno Il Signore E adesso E adesso Signore Puoi venire Come mai È quasi Un non senso Noi sappiamo Da un punto di vista Profetico Che il Signore Ha un tempo Prestabilito Per ogni cosa Al tempo Perfetto Al tempo Compiuto Gesù È venuto Nel nostro mondo Per dare la sua vita Al tempo Predetto Preciso Stabilito Da Dio Il Signore Tornerà Quindi c'è un tempo Di grazia Che un giorno Avrà Purtroppo Per alcuni Che ancora Sono In questa Sono Indecisi Questo tempo Di grazia Finirà Il Signore Non ritarda L'adempimento Della sua promessa Come pretendono Alcuni Ma è paziente Verso di voi Non volendo Che qualcuno Perisca Ma che tutti Giungano Al rapidimento E questo Apparente Ritardo Da parte Di Cristo Noi che Lo aspettiamo Che predichiamo Del suo ritorno Avrà Finalmente Un punto D'arrivo Questo giorno È davanti a noi Sicuramente Quei due giorni Di ritardo Di Gesù In Pereia Prima di arrivare In Betania Dopo quattro giorni Quando Povero Lazaro Era ormai morto Potrebbero diventare Per noi Più di una settimana Più di Più di Di un decennio Ma Abbiamo La Ferma Convinzione Che Gesù Non ritarda Gesù È già In cammino E mentre Lui Ritardava Apparentemente Due giorni In Pereia Sicuramente Il suo cuore Era Straziato Era Era Distrutto Dal dolore Di coloro Che piangevano Per Per Lazaro La cosa Bella Di questo Capitolo 11 Di Giovanni E che Finisce In gloria E veramente Quella morte Si è Dimostrata Che non era Per la morte Ma quella malattia Era perché Gesù potesse Manifestare La sua gloria E mi piace Tanto Il pensiero Che ognuno Di noi Siamo stati Creati Da Dio Per essere All'ode Della sua gloria E le nostre Malattie Che potrebbero portare Anche Alla morte Saranno Sicuramente All'ode Della sua gloria Nel giorno In cui Chiamerà Alla vita Eterna Ognuno Di noi Nel giorno In cui Chiamerà Alla vita Eterna Anche Vito Antonio E tutti Gli altri Che si sono Addormentati In Cristo Però Prima di Questo Lazaro Ci insegna Che Apriva Sempre Le sue Porte La sua Casa All'amico Gesù E che sia Questa Prima di arrivare Alla malattia Prima di arrivare A incontrare Il sonno Della morte Di avere Questa esperienza Di tutti i giorni Di amicizia Di affetto Di prossimità Con il nostro Caro Gesù Che lui si possa sentire Veramente bene A casa nostra Bene Nel nostro cuore Bene Nei nostri pensieri Bene Nelle nostre parole E poi il resto Lo lasciamo a lui Che il Signore Ci aiuti In questo Amen Lo lasciamo a lui Grazie a tutti.